il risciò fantasma kipling che i brutti sogni non turbino il mio riposo né mi molestino le potenze delle tenebre inno della sera uno dei pochi vantaggi che l'india ha rispetto all'inghilterra è la grande facilità nel fare conoscenze dopo cinque anni di servizio un uomo conosce direttamente o indirettamente i due o trecento funzionari della sua provincia tutte le mense di dieci o dodici reggimenti e batterie e un migliaio e mezzo di altre persone che non appartengono alla casta ufficiale in dieci anni le sue conoscenze sono raddoppiate e dopo venti arriva a conoscere personalmente o di fama ogni inglese dell'impero e può viaggiare in lungo e in largo senza pagare i conti d'albergo i giramondo che esigono l'ospitalità come un diritto hanno per quanto riesca a ricordare attenuato questa disponibilità tuttavia oggi se uno appartiene a una cerchia ristretta di individui e non è un orso né una pecora nera tutte le porte gli sono aperte e il nostro piccolo mondo è assai accogliente e ospitale una quindicina di anni or sono ricchetta di camarta uospite di polder di kumaon intendeva fermarsi due notti ma fu assalito dalla febbre reumatica e per sei settimane mise a su quadro la casa di polder gli interrompe il lavoro e per poco non morì nella sua camera da letto oggi polder si comporta come se avesse un obbligo eterno nei confronti di ricchett e ogni anno manda una scatola di giocattoli e regali ai piccoli ricchett avviene così dappertutto gli uomini che non si preoccupano di nascondervi la loro opinione secondo cui siete un asino patentato e le donne che vi danneggiano la reputazione e fraintendono i passatempi di vostra moglie si faranno in quattro per aiutarvi se vi ammalate o vi trovate in guai seri il dottor Heatherleg oltre alla normale attività conduceva a un ospedale privato i suoi amici lo chiamavano un insieme di box per incurabili ma in realtà era una specie di capannone per la riparazione di materiale umano danneggiato dalle intemperie il clima in india è spesso affoso e poiché il numero degli sgobboni è sempre lo stesso e l'unica libertà concessa è quella di fare degli straordinari senza ricevere nemmeno un ringraziamento i uomini di quando in quando crollano e diventano confusi come le metafore di questo periodo Heatherleg è il miglior medico che ci sia e l'invariabile rimedio che prescrive a tutti i suoi pazienti è stai buono vai piano e mantieni la calma dice che l'eccesso di lavoro uccide più uomini di quanto l'importanza di questo mondo non giustifichi e sostiene che fu l'eccesso di lavoro a uccidere Pansai che morì tra le sue braccia circa tre anni fa naturalmente ha il diritto di parlare con autorità e ride della mia teoria secondo cui c'era un'incrinatura nella testa di Pansai attraverso cui penetrò un soffio di mondo delle tenebre e lo condusse alla morte Pansai uscì di senno sostiene Heatherleg sotto lo stimolo di una lunga licenza in patria può darsi che si sia comportato da mascalzone con Mrs. Kate Wessington oppure no la mia opinione è che il lavoro alla colonia di Catabundi lo tenne costantemente occupato ed egli prese a rimuginare e a dare troppa importanza a un comunissimo flirt ha avuto durante una traversata in piroscafo certo era fidanzato con Mrs. Manning e fu lei a rompere il fidanzamento poi lui si buscò la febbre e nacquero tutte quelle sciocchezze sui fantasmi fu l'eccesso di lavoro a causare la sua malattia ad alimentarla e ad ucciderlo povero diavolo la sua fine va messa in conto a un sistema che impiega un uomo solo per sbrigare il lavoro di due e mezzo io questo non lo credo quando Heatherleg era in giro per delle visite e io mi trovavo a tiro mi è capitato di vegliare Pansai il poveretto mi affliggeva descrivendomi a voce bassa e monotona la processione che sfilava incessantemente ai piedi del suo letto aveva la facilità d'espressione di un malato quando si riprese gli suggerì di mettere per iscritto l'intera storia dall'inizio alla fine sapendo che l'inchiostro lo avrebbe aiutato a sgravarsi la mente mentre scriveva aveva la febbre alta e lo stile che adottò degno di una rivista scandalistica non valse a calmarlo due mesi dopo venne dichiarato abile al lavoro ma benché urgesse la sua presenza per aiutare una commissione carente d'uomini a colmare un disavanzo gli preferì morire giurando fino all'ultimo di essere tormentato dagli incubi io ebbi il suo manoscritto prima che morisse e questa è la sua versione dei fatti datata a 1885 così come la scrisse lui il mio medico dice che ho bisogno di riposarmi e di cambiare aria non è improbabile che tra breve io possa avere entrambe le cose un riposo che nel messaggero in giubba rossa nel cannone di mezzogiorno potranno turbare è un cambiamento d'aria di gran lunga superiore a quello che potrebbe garantirmi un piroscafo diretto in patria nel frattempo sono deciso a restare dove mi trovo e infischiandomene degli ordini del mio medico a confidarmi con il mondo intero apprenderete da soli la natura esatta del mio male e parimenti giudicherete se mai su questa stanca terra uomo nato da donna sia stato tormentato come me poiché parlo come farebbe un condannato a morte con il cappio al collo la mia storia per quanto pazzesca e assolutamente inverosimile possa sembrare merita almeno attenzione che qualcuno ci creda lo escludo categoricamente due mesi fa avrei preso per pazzo o per ubriaco chiunque avesse osato raccontarmi una cosa del genere due mesi fa ero l'uomo più felice dell'India oggi da pesce a guar fino al mare non c'è nessuno più infelice di me il mio medico ed io siamo i soli a saperlo la sua spiegazione è che il mio cervello la mia digestione e la mia vista siano leggermente danneggiati ciò darebbe origine alle mie frequenti e persistenti allucinazioni proprio allucinazioni io dico che è uno sciocco ma lui continua ad assistermi con lo stesso sorriso instancabile le stesse blande maniere professionali le stesse fedine rosse ben curate che inizia a sospettare di essere un paziente ingrato e scorbutico ma giudicherete da soli tre anni or sono vi ritorno da una licenza ebbi la fortuna e la grande sfortuna di fare il viaggio da Gravesend a Bombay in compagnia di una certa Agnes Kate Wessington moglie di un ufficiale di stanza a Bombay non starò a descrivervi il tipo di donna che a voi certo non interessa vi basti sapere che prima della fine del viaggio eravamo perdutamente e follemente innamorati l'uno dell'altra Dio solo sa come oggi possa ammetterlo senza un briciolo di vanità in affari di questo genere c'è sempre uno che dà e uno che riceve sin dal primo giorno della nostra infausta relazione io mi resi conto che la passione di Agnes era un sentimento più forte più dominante e se mi è concesso il termine più puro del mio non so se anche lei se ne si è accorta allora in seguito divenne tristemente chiaro ad entrambi arrivati a Bombay in primavera ce ne andammo ognuno per la propria strada senza incontrarci più per i tre o quattro mesi successivi finché una mia licenza e il suo amore si portarono entrambi a Simbla lì trascorremmo insieme la stagione e lì il mio fuoco di paglia bruciò fino a distinguersi miseramente col finire dell'anno non cerco scuse non faccio un'autodifesa Mrs. Washington aveva rinunciato a molto per amor mio ed era pronta a rinunciare a tutto nell'agosto del 1882 apprese dalle mie labbra che ero stanco della sua presenza stufo della sua compagnia e nauseato dal suono della sua voce 99 donne su 100 si sarebbero stancate di me come io di loro di queste 75 si sarebbero prontamente vendicate amoreggiando senza ritegno con altri uomini Mrs. Washington era la centesima su di lei non ebbero il minimo effetto né la mia aperta avversione né le sgarberie con cui ravvivavo i nostri incontri Jack tesoro era il suo invariabile ed eterno lamento sono certa che è tutto un errore un terribile errore e un giorno saremo di nuovo buoni amici ti prego perdonami Jack caro ero io il colpevole e lo sapevo questa consapevolezza trasformò la mia pietà in sopportazione passiva e infine in odio cieco lo stesso istinto suppongo che spinge un uomo a calpestare ferocemente il ragno che ha ucciso solo a metà e con quest'odio nel petto finì la stagione del 1882 l'anno dopo ci incontrammo di nuovo a Simla lei con la sua faccia monotona e i suoi timidi tentativi di riconciliazione io con un'avversione in ogni fibra del corpo più di una volta non potei evitare di incontrarla da solo e in ogni occasione le sue parole furono esattamente le stesse ancora il lamento irragionevole per ciò che era tutto un errore e ancora la speranza di ritornare finalmente amici se mi fossi curato di guardare avrei potuto vedere che era solo quella speranza a tenerla in vita diventavo ogni mese più pallida e demaciata converrete almeno che tale comportamento avrebbe spinto chiunque alla disperazione era fuori luogo puerile indegno di una donna io sostengo che gran parte della colpa fosse sua eppure di quando in quando nelle oscure e febbricitanti veglie notturne mi sono trovato a pensare che forse avrei dovuto essere più gentile con lei ma questa sì che è un'illusione non avrei potuto continuare a fingerle di amarla se non l'amavo no? sarebbe stato disonesto nei riguardi di entrambi l'anno scorso ci incontrammo di nuovo nelle stesse circostanze di prima sempre quelle sue noiose suppliche e le stesse risposte secche dalle mie labbra volevo almeno farle capire quanto fossero fuori luogo e senza speranza i suoi tentativi di riallacciare la vecchia relazione con il lento procedere della stagione i nostri incontri si diradarono cioè per lei fu sempre più difficile vedermi perché avevo altri più stimolanti interessi a cui badare quando ci ripenso con calma nella mia stanza di malato la stagione del 1884 mi appare come un incubo confuso nel quale luci ed ombre si mescolano in maniera bizzarra il mio corteggiamento della piccola Kitty Bannering le mie speranze, i miei dubbi e le mie paure le nostre lunghe cavalcate insieme la mia trepidante dichiarazione d'affetto la sua risposta è di quando in quando l'apparizione di un volto pallido che passava nel risciò dalle livree bianche e nere che un tempo aspettavo con tanto ardore il cenno della mano guantata di Mrs. Washington e quando mi incontrava da solo cosa che avveniva di rado la fastidiosa tiritera delle sue suppliche amavo Kitty Bannering l'amavo onestamente, profondamente e con il mio amore per lei cresceva l'odio per Agnes in agosto Kitty e Dio ci fidanzammo il giorno dopo incontrai quei maledetti jampani in livrea da Gaza alle spalle di Jaco e mosso da un fugace sentimento di pietà mi fermai per raccontare tutto a Mrs. Washington lei ne era già al corrente così ti sei fidanzato Jack caro poi senza interrompersi un istante sono certa che è tutto un errore un terribile errore un giorno saremo di nuovo buoni amici Jack, come siamo sempre stati la mia risposta avrebbe fatto tra salire un uomo la donna morente che avevo di fronte ne fu colpita come donna frustata ti prego perdonami Jack non volevo farti arrabbiare ma è la verità è la verità poi mi si spesso senton crollò definitivamente io me ne andai lasciandole finire il giro in pace ed ebbi la sensazione che durò solo pochi attimi di essermi comportato da perfetto mascalzone quando mi girai vidi che aveva fatto voltare il risciò con l'intenzione suppongo di raggiungermi la scena e l'ambiente circostante mi sono rimasti impressi nella memoria come una fotografia il cielo lavato dalla pioggia eravamo al termine della stagione piovosa i pini fradici e scuri la strada fangosa e i neri dirupi e rosi dalla polvere contro cui le livree bianche e nere dei champanis il risciò dai pannelli gialli e il biondo caporeclino di Mrs. Washington si stagliavano nitidi lei stringeva il fazzoletto nella mano sinistra e si era abbandonata esausta sui cuscini del risciò spinsi il cavallo su un sentiero laterale nei pressi del salbatoio di San Aiole e mi detti letteralmente alla fuga una volta mi parve di udire un debole richiamo Jack ma può essere stata soltanto la mia immaginazione ad ogni modo non mi fermai per accertarmene dieci minuti dopo mi imbattei in chitti a cavallo ed eliziato da una lunga passeggiata in sua compagnia scordai del tutto l'incontro una settimana dopo Mrs. Washington morì liberandomi dal peso indescrivibile che la sua esistenza rappresentava per la mia ritornai in pianura completamente felice nel giro di tre mesi mi ero dimenticato del tutto di lei soltanto a volte la scoperta di qualche sua vecchia lettera ridestava il ricordo sgradevole della nostra relazione di un tempo per gennaio avevo riportato alla luce dal disordine delle mie cose quanto rimaneva della nostra corrispondenza e l'avevo bruciato all'inizio di aprile di quest'anno 1885 ero di nuovo a Simla una Simla semideserta immerso in conversazioni e passeggiate amorose con Kitty decidemmo di sposarci alla fine di giugno capirete dunque che amando Kitty come l'amavo non esagero quando dico che in quel periodo ero l'uomo più felice dell'India senza quasi che me ne rendessi conto passarono due settimane di sogno poi richiamato al rispetto di ciò che si conviene ai mortali in circostanze come le nostre feci notare a Kitty che un anello di fidanzamento sarebbe stato il segno evidente della sua condizione di fanciulla promessa per cui doveva venire subito da Hamilton a sceglierne uno fino a quel momento vi do la mia parola c'eravamo completamente dimenticati di una questione così banale perciò il 15 aprile 1885 andammo da Hamilton si tenga presente che allora che che ne dica il mio medico godevo di ottima salute avevo la mente equilibrata e lo spirito assolutamente sereno Kitty e Dio entrammo insieme nel negozio di Hamilton e lì senza badare agli altri clienti scelsi l'anello per Kitty in presenza del commesso divertito l'anello era uno zaffero con due diamanti poi scendemmo a cavallo il pendio che conduce al ponte di Combermer e al locale di Peliti mentre il mio cavallo australiano assaggiava cautamente il terreno di roccia friabile e Kitty rideva e chiacchierava al mio fianco mentre tutta Simla vale a dire quelli che erano già arrivati alla pianura si trovava riunita nella sala di lettura e sulla veranda di Peliti io ebbi l'impressione che qualcuno apparentemente molto lontano mi chiamasse per nome mi pareva di aver già udito la voce ma sul momento non riuscii a stabilire né dove né quando nel breve lasso di tempo che ci volle a coprire la distanza tra il negozio di Hamilton e le prime tavole del ponte di Combermer mi venne in mente una mezza dozzina di persone che avrebbero potuto comportarsi in maniera così sconveniente e finì per convincermi che dovevano essermi fischiate le orecchie proprio di fronte al locale di Peliti lo sguardo mi calde su quattro champanis in livrea da Gaza che trainavano un povero lisciò del bazzar a pannelli gialli in un attimo riandai con la mente alla passata stagione e a Mrs. Westington con un senso di irritazione e di disgusto non bastava che la donna fosse morta e sepolta ci volevano anche i suoi servi in livrea bianca e nera a guastarmi la felicità di quella giornata pensai di recarmi da chiunque li avesse ora al suo servizio e di chiedergli come favore personale di cambiare la livrea dei champanis ero disposto ad assumerli io stesso e se necessario a comperare direttamente da loro le giacche è impossibile descrivere l'ondata di sgradevoli ricordi che evocava la loro presenza kitty esclamai sono ricomparsi i champanis della povera missis westington mi domando di chi siano ora kitty aveva conosciuto appena missis westington durante le passate stagioni e in seguito si era interessata costantemente alla poveretta cosa dove chiese non li vedo da nessuna parte proprio mentre parlava il suo cavallo facendo uno scarto per evitare un muro carico si gettò davanti al riscio che avanzava ebbe appena il tempo di lanciarle una parola di avvertimento che con mio indescrivibile orrore cavallo e cavaliere passarono attraverso uomini e vettura come se fossero stati d'aria cosa c'è ridò kitty cosa hai da gridare in maniera così assurda jack anche se sono fidanzata non voglio che il mondo intero lo sappia c'era un sacco di spazio tra il muro e la veranda e se credi che non sappia andare a cavallo guarda e la volitiva kitty la graziosa testolina al vento si lanciò al piccolo galoppo in direzione del palco dell'orchestra certa come mi disse lei stessa in seguito che l'avrei seguita cosa c'era proprio niente o io ero pazzo o ubriaco oppure simla era infestata dagli spiriti rimise al passo il mio cavallino inquieto e mi voltai anche richard aveva voltato e adesso mi stava proprio di fronte accanto al parapetto di sinistra del ponte di convermer jack jack tesoro questa volta non potei sbagliarmi sulle parole mi risuonarono nel cervello come se me li avessero urlate all'orecchio è un terribile errore ne sono certa ti prego jack perdonami e ritorniamo amici come prima il mantice del risciò era ricaduto indietro e all'interno quanto è vero che di giorno mi auguro e invoco la morte che di notte mi spaventa sedeva mrs wessington il fazzoletto in mano e il biondo capo chino sul petto quanto tempo rimasi immobile a fissarla non saprei alla fine venne a scuotermi il mio sais che afferrò la briglia dell'australiano e mi chiese se mi sentissi male dall'orrido al banale il passo è breve smontai alla meno peggio del cavallo e se mi svenuto mi precipitai nel locale di peliti per farmi un bicchiere di sherry brandy all'interno c'erano due o tre coppie sedute ai tavolini che discutevano il pettegolezzo del giorno in quella circostanza le loro banalità mi confortarono più di quanto non avrebbero potuto fare le consolazioni della religione subito mi buttai a capofitto nella conversazione chiacchierando ridendo e scherzando con una faccia la vidi disfuggita in uno specchio pallida e tirata come quella di un cadavere tre o quattro uomini si accorsero del mio stato e attribuendolo evidentemente ai troppi cicchetti cercarono caritatevolmente di allontanarmi dalla combriccola io mi opposì fieramente avevo bisogno della compagnia dei miei simili così come un bambino fa irruzione nella sala dei convitati perché ha paura del buio dovevo essere lì a parlare da una decina di minuti benché a me sembrasse un'eternità quando udì la limpida voce di kitty all'esterno che domandava di me un attimo dopo entrava nel locale pronta a rimproverarmi di essere venuto meno così vistosamente ai miei doveri qualcosa nel mio viso la trattenne ebbene jack esclamò cosa hai fatto cosa è successo ti senti male spinto così a mentire risposi che avevo preso troppo sole erano quasi le cinque di un nuvoloso pomeriggio di aprile e il sole non si era visto per tutto il giorno mi accorsi dell'errore non appena ebbi pronunciato quelle parole cercai di rimediare fallì miseramente e seguì kitty rossa di rabbia fuori del locale accompagnato dai sorrisetti degli amici mi scusai in qualche modo non ricordo quale chiamando in causa la bellezza e mi avviai al piccolo galoppo verso il mio albergo lasciando kitty a terminare la cavalcata da sola nella mia stanza mi sedetti e cercai di esaminare con calma la faccenda eccomi lì Theobald Jack Pansay un istruito funzionario del Bengala nell'anno di grazia 1885 presumibilmente sano di mente sicuramente sano di corpo costretto ad abbandonare la mia fidanzata perché terrorizzato dall'apparizione di una donna morta e sepolta otto mesi prima questi erano i fatti di fronte ai quali non potevo chiudere gli occhi nulla era più lontano dalla mia mente quando ero uscito con kitty dal negozio di Hamilton del ricordo di Mrs. Westington nulla era più banale del tratto di muro di fronte al locale di peliti era giorno pieno la strada era aggremita di gente eppure lì a dispetto di qualsiasi legge delle probabilità e in aperta violazione di qualsiasi ordine naturale mi era apparso un volto dall'oltretomba il cavallo arobo di kitty era passato attraverso il risciò facendo così svanire la mia prima speranza che una donna incredibilmente simile a Mrs. Westington avesse noleggiato la vettura ai culi con la vecchia livrea cento e più volte girai col pensiero su questa ruota del supplizio e ognuna finì per arrendermi confuso e disperato la voce era inspiegabile quanto l'apparizione da principio mi era venuta la folla idea di confidare tutto a kitty e di pregarla che mi sposasse subito per sfidare tra le sue braccia la spettrale passeggera del risciò dopo tutto ragionai la presenza del risciò è sufficiente a provare l'esistenza di un'illusione spettrale si possono vedere fantasmi di uomini e di donne ma non certo di culi e calessi tutto ciò è assurdo pensa un po' vedere il fantasma di un montanaro dell'Himalaya il mattino dopo mandai a kitty un biglietto di scuse supplicandola di non tener conto del mio strano comportamento del pomeriggio precedente la mia idea era ancora molto irritata e dovetti scusarmi di persona le spiegai con un'elequenza che nasceva da una notte intera passata a riflettere su una menzogna che ero stato colto da un'improvvisa palpitazione cardiaca dovuta alla cattiva digestione questa soluzione eminentemente pratica sortì il suo effetto e quel pomeriggio kitty ed io uscimmo a cavallo divisi dall'ombra della mia prima bugia nulla le avrebbe fatto più piacere di una cavalcata intorno a Iacco con arvia ancora scossi dalla notte precedente mi opposi debolmente a quell'idea proponendo invece la collina dell'osservatorio Iutog la strada di Bolegunge qualsiasi altro luogo piuttosto che il giro di Iacco kitty si mostrò stizzita e un poco offesa per cui cedetti temendo di provocare altri malintesi e insieme ci avviamo verso Cota Sibla facemmo gran parte della strada al passo e come era nostra abitudine andammo al piccolo galoppo da un miglio o due sotto il convento fino al tratto pianeggiante presso il serbatoio di Saniaoli quei disgraziati dei cavalli sembravano volare e a mano a mano che ci avvicinavamo alla cima della salita il mio cuore batteva sempre più in fretta per tutto il pomeriggio non avevo fatto altro che pensare a Mrs. Washington e ogni centimetro della strada di Iacco testimoniava le nostre passeggiate e conversazioni di un tempo ne erano impregnati i ciottoli i pini li intonavano ad alta voce sulle nostre teste i torrenti alimentati dalle piogge ridacchiavano invisibili confidandosi l'incresciosa vicenda e il vento cantava a gran voce nelle mie orecchie l'ingiustizia commessa a coronamento di tutto questo e nel bel mezzo della spianata conosciuta come il miglio delle signore l'orrore mi stavo aspettando non c'erano altri di ciò in vista soltanto quattro champanì in bianco e nero la vettura a pannelli gialli e il biondo capo della donna all'interno tutto esattamente come l'avevo lasciato otto mesi e mezzo prima per un attimo credetti che anche kitty dovesse vedere quello che vedevo io data la meravigliosa intesa che c'era tra noi due su tutto ma le sue parole mi tolsero ogni illusione non c'è anima viva in giro dai jack facciamo una corsa fino al serbatoio il suo instancabile cavallino arabo partì come una freccia seguita a breve distanza dal mio australiano e in quest'ordine ci lanciammo sotto le rupi in mezzo minuto arrivammo a meno di 50 metri dal rishaw io trattenni l'australiano e rimasi un po' indietro il rishaw era proprio in mezzo alla strada e di nuovo l'arabo vi passò attraverso seguito dal mio jack jack caro ti prego perdonami le suonò come un gemito alle mie orecchie e dopo un attimo è tutto un errore un terribile errore sfronai il cavallo come un indemoniato quando mi voltai a guardare in direzione del serbatoio le livree bianche e nere stavano ancora aspettando pazienti ai piedi del grigio pendio e il vento mi portò un eco beffarda delle parole che avevo appena udito per tutto il resto della cavalcata Kitty si beffò del mio silenzio fino a quel momento avevo parlato a ruota libera ma in seguito non sarei più riuscito ad esprimermi in modo naturale nemmeno a costo della vita e da stagnaoli fino alla chiesa pensai bene di tacere quella sera ero invitato a cena dai mannering avevo appena il tempo di correre a casa a cambiarmi d'abito sulla strada per elision hill udii per caso due uomini che discorrevano nell'oscurità è curioso diceva uno come sia sparito senza lasciare trazza sai mia moglie nutriva un affetto assurdo per quella donna e a me non diceva proprio niente e voleva che rilevassi il suo vecchio risciò e i culi a qualsiasi prezzo un capriccio morboso a parer mio ma devo fare quello che mi dice la mem saib tu non ci crederai ma l'uomo da cui li aveva presi a servizio mi ha detto che tutti e quattro i portatori erano fratelli sono morti di colera sulla strada per hardwar poveri diavoli e lui stesso ha demolito il risciò dice che non ha mai tenuto il risciò di una mem saib morta gli porta sfortuna che idea te la immagini Mrs. Wessington che porta sfortuna ad altri che a se stessa a questo punto scoppiai in una sonora risata e quel suono mi urtò i nervi così dopo tutto c'erano anche fantasmi di risciò e impieghi spettrali all'altro mondo chissà quanto li pagava Mrs. Wessington i suoi uomini che orario facevano e dove andavano come risposta visibile alla mia ultima domanda vidi la cosa infernale sbarrarmi il passo nel crepuscolo i morti viaggiano veloci servendosi di scorciatoie sconosciute ai comuni culi scoppiai di nuovo a ridere ma subito mi trattenni poiché temevo di impazzire pazzo in una certa misura dovevo esserlo già perché ricordo che fermai il cavallo davanti al risciò e augurai cortesemente la buonasera a Mrs. Wessington la sua risposta mi risultò fin troppo nota ascoltai fino in fondo e replicai che avevo già sentito tutto altre volte ma sarei stato lieto se avesse voluto aggiungere qualcosa quella sera doveva essermi entrato in corpo uno spirito maligno che non seppi dominare perché ricordo vagamente di aver parlato del più e del meno per cinque minuti con la cosa che mi stava di fronte è matto da legare povero diavolo ubriaco Max cerchiamo di farlo tornare a casa quella di certo non era la voce di Mrs. Wessington i due mi avevano sentito parlare da solo ed erano tornati ad occuparsi di me furono molto gentili e permurosi e dalle loro parole capii che mi ritenevano ubriaco fradicio li ringraziai confusamente e mi avviai al piccolo galoppo verso l'albergo mi cambiai e arrivai dai mannering con dieci minuti di ritardo addussi a pretesto l'oscurità della notte venne rimproverato da Kitty per il mio ritardo indegno di un innamorato e mi sedetti a tavola la conversazione si era già fatta generale e io ne approfittavo per rivolgere alla mia fidanzata paroline affettuose quando mi accorsi che all'estremità opposta della tavola un uomo basso dalle fedine rosse stava descrivendo in maniera alquanto pittoresca un incontro fatto quella sera con uno sconosciuto che dava i numeri bastarono poche frasi a convincermi che stava riferendo l'incidente di mezz'ora prima nel bel mezzo del racconto ci guardò attorno in cerca di applausi come fanno i narratori di professione ma incontrò il mio sguardo e ammutoli di colpo seguì un attimo di imbarazzante silenzio poi l'uomo dalle fedine rosse mormorò qualcosa per far intendere che si era dimenticato il resto sacrificando così una reputazione di buon narratore che si era andato facendo nelle sei stagioni precedenti io lo benedissi dal profondo del cuore e ritornai ad occuparmi del pesce a tempo debito quella cena finì e con sincero rammarico mi separai da kitty certo come lo ero della mia esistenza che fuori della porta avrei trovato la cosa ad attendermi l'uomo dalle fedine rosse che mi era stato presentato come il dottor Heterleg di Simla si offrì di accompagnarmi lungo il tratto di strada in comune accettai l'offerta con gratitudine l'istinto non mi aveva incannato la cosa mi stava aspettando nel mal e quasi a volersi beffare crudelmente dei nostri usi aveva un farale acceso davanti l'uomo dalle fedine rosse arrivò subito al punto in un modo che dimostrava come ci avesse riflettuto durante tutto il pranzo dite un po' pansai che diavolo vi era preso stasera all'Elysium Road la domanda mi giunse talmente improvvisa che risposi prima ancora di rendermene conto quello dissi indicando la cosa quello potrebbe essere delirium tremens o allucinazione per quanto ne so io voi però non bevete l'ho visto a cena per cui non può trattarsi di delirium tremens non c'è proprio niente nel punto in cui indicate finché stiate sudando e tremando come un pony spaventato quindi si tratta di un'allucinazione e io dovrei essere un'autorità in materia venite da me abito sulla strada bassa di blessington con mio grande piacere il riscio invece di aspettarci si manteneva a una ventina di metri di distanza e questo sia che andassimo al passo sia che andassimo al troppo al piccolo galoppo nel corso di quella lunga cavalcata notturna raccontai al mio compagno più o meno quanto ho scritto fin qui beh avete rovinato una delle migliori storie che mi fossi mai trovato a raccontare disse lui ma vi perdono per quello che avete passato ora venite a casa e fate ciò che vi dico e quando vi avrò guarito giovanotto che vi serva da lezione state alla larga dalle donne e dai cibi indigesti per il resto della vita il riscio si manteneva a distanza regolare il mio amico dalle fedine rosse sembrava trarre grande piacere dal mio resoconto della sua esatta posizione allucinazioni pensai si tratta solo di disturbi agli occhi al cervello e allo stomaco e il più importante dei tre è lo stomaco voi avete un cervello troppo macchinoso uno stomaco troppo debole e gli occhi completamente andati rimettete in sesto lo stomaco e il resto verrà da sé e tutto questo in parole povere significa pillole per il fegato ora in avanti mi occuperò io di voi siete un fenomeno troppo interessante perché vi lascia andare adesso eravamo immersi nell'oscurità della strada di blessington e il risciò si fermò di colpo sotto una rupe scistosa coperta di pini istintivamente mi arrestai anch'io spiegando il motivo di tale azione Heatherleg si lasciò sfuggire una bestemmia sentite un po' se credete che io voglio passare la notte all'agghiaccio con questo freddo per colpa di un'allucinazione gastro cerebro ottica signore dio che succede ci fu un rombo soffocato una nube accecante di polvere proprio davanti a noi uno schianto il rumore di rami spezzati e una decina di metri di pendio pini sotto bosco e tutto quanto franarono sulla strada sottostante ostruendola completamente alberi di velti oscillarono e vacillarono per un istante nell'oscurità come giganti ubriachi e poi caddero bocconi tra le altre piante con un tonfo fragoroso i nostri due cavalli erano rimasti immobili e sudavano per lo spavento non appena il frastuono della terra e dei sassi che franavano si fu smorzato il mio compagno mormorò caspita se avessimo proseguito adesso saremmo sepolti sotto tre metri di terra ci sono più cose in cielo e in terra venite a casa pansai e ringraziate dio ora devo proprio farmi un cicchetto ritrovammo la strada oltre la chiesa e arrivai a casa del dottor Heerlegg poco dopo mezzanotte i tentativi di cura iniziarono quasi subito e per una settimana fui tenuto costantemente sotto controllo parecchie volte nel corso di quella settimana ringraziai la sorte favorevole che mi aveva fatto incontrare il medico più bravo e più gentile di tutta Simla di giorno in giorno andavo riacquistando serenità ed equilibrio e di giorno in giorno diventavo sempre più propenso ad accettare la teoria di Heerlegg sulle illusioni spettrali dovute agli occhi al cervello e allo stomaco scrissi a Kitty dicendole che una leggera distorsione dovuta a una caduta da cavallo mi costringeva a letto per alcuni giorni ma che sarei guarito prima che lei avesse avuto il tempo di rimpiangere la mia assenza la cura Heerlegg era semplicissima consisteva in pillole per il fegato bagni freddi e pesanti esercizi fisici fatti al tramonto o all'alba perché come aveva assaggiamente osservato un uomo con una caviglia slogata non fa una dozzina di miglia al giorno e se la vostra giovane amica vi vedesse potrebbe insospettirsi alla fine della settimana dopo ripetuti controlli della pupilla e del polso e severe prescrizioni riguardo alla dieta e al podismo Heerlegg mi dimise altrettanto bruscamente di come mi aveva preso in cura questa è la benedizione che mi diede al momento del congedo amico attesto la vostra guarigione mentale e sarebbe come dire che ho curato la maggior parte dei vostri disturbi fisici ora levate le tende al più presto e andate a corteggiare il missis chitti cercai di esprimere la mia riconoscenza per la sua bontà ma lui togliò corto non credete che l'abbia fatto perché mi piacete da quel che so vi siete comportato da perfetto mascalzone non di meno siete un fenomeno e tanto curioso come il fenomeno quanto lo siete come mascalzone no interrompendomi di nuovo neanche una rupia per favore andate a vedere se questi disturbi gastro cerebro ottici si ripresentano vi darò un lac di rupie ogni volta che vi capita mezz'ora dopo ero nel salotto dei mannering con kitty ebbero per la felicità presente e la piena consapevolezza che non sarei più stato turbato dalla orribile presenza della cosa forte della mia ritrovata sicurezza proposi subito una cavalcata e preferibilmente un giro intorno a Iacco non mi ero mai sentito così bene così traboccante di vitalità e di puro vigore fisico come quel poveriggio del 30 aprile kitty si rallegrò del cambiamento avvenuto nel mio aspetto e si complimentò con me in quel suo modo diriziosamente franco ed esplicito lasciamo insieme la casa dei mannering chiacchierando e ridendo e ci avviamo al piccolo galoppo sulla strada di cota simla come un tempo ero ansioso di raggiungere il salbatoio di stagnauli per avere una riprova della mia sicurezza i cavalli facevano del loro meglio ma al mio animo impaziente sembravano ancora troppo lenti a un certo punto kitty sorpresa dalla mia chiassocia agitazione esclamò diamine jack ti stai comportando come un bambino cosa fai eravamo proprio sotto il convento e senza riflettere facevo scattare e corvettare il mio australiano da un lato all'altro della strada stuzzicandolo con il cappio del frustino cosa faccio risposi niente cara ecco quel che faccio se fossi rimasto a letto senza far niente per una settimana saresti esuberante come me cantando e mormorando in festosa allegria godendo nel sentirti vivo signore della natura signore del mondo visibile signore dei cinque sensi la citazione mi era appena uscita di bocca e tirammo l'angolo sopra il convento e pochi metri più avanti ci trovammo in vista di saniauli al centro della spianata c'erano le livree bianche e nere il risciò a pannelli gialli e mrs. Kate wessington mi fermai di colpo guardai mi stropicciai gli occhi e credo dissi qualcosa poi la prima cosa che ricordo è che giacevo bocconi sulla strada kitty china su di me in lacrime se n'è andato piccola disse ansimando ciò non fece che aumentare lo sconforto di kitty se n'è andato cosa jack caro che significa tutto questo ci deve essere un errore jack un terribile errore le sue ultime parole mi fecero balzare in piedi in preda alla follia e al delirio sì un errore c'è ribattei un terribile errore vieni a vederlo ricordo vagamente di aver trascinato kitty per il polso lungo la strada fin dove era la cosa implorandola per pietà di parlarle di dirle che eravamo fidanzati che né la morte né l'inferno potevano spezzare il legame che ci univa e chissà quante altre cose di questo genere che solo kitty saprebbe ripetere più di una volta mi appellai con trasporto al terrore nel risciò perché fosse testimone di tutto ciò che avevo detto e mi liberasse da un tormento che mi stava uccidendo mentre parlavo credo di aver raccontato a kitty dei miei rapporti di un tempo con mrs westington perché la vidi ascoltare attentamente con il volto pallido e gli occhi che mandavano fiamme grazie mister pansai dissi poi è più che sufficiente sais go ralao i sais impassibili come sempre sono gli orientali ci avevano raggiunti con i cavalli recuperati e mentre kitty saltava in sella io afferrai la sua briglia supplicandola di ascoltarmi fino in fondo e di perdonarmi in risposta ricevete una sfudiciata di traverso sul volto dall'occhio alla bocca è una parola o due di addio che anche adesso non ho il coraggio di scrivere perciò ritenni e giustamente che kitty sapesse tutto e tornai barcollando vicino al risciò avevo il viso ferito e sanguinante e mi stava spuntando un difido bluastro ero del tutto privo di amor proprio e in quel mentre Hetherleg che doveva averci seguito a distanza sopraggiunse al piccolo galoppo dottore disse mostrandogli la faccia ecco la firma di mrs mannering sul mio foglio di via e non appena potrete darmi quelle rupie me ne sarò grato il viso di Hetherleg malgrado la mia condizione miserevole mi spinse al riso ti scommetto la mia reputazione professionale incominciò non siate ridicolo murmurai io ho perso la felicità della mia vita e voi fareste meglio a riportarmi a casa mentre parlavo il risciò era sparito allora persi ogni cognizione di quanto stava succedendo la cresta di Iacco parve sollevarsi e rollare come la cresta di una nuvola e rovinarmi addosso sette giorni dopo vale a dire il 7 maggio mi resi conto di trovarmi nella camera di Hetherleg debole come un bambino Hetherleg mi stava osservando con attenzione da dietro le carte che avevo sullo scrittoio le sue prime parole non furono incoraggianti ma ero troppo esausto perché mi impressionassero più di tanto Miss Kitty ha restituito le vostre lettere vi scrivete parecchio voi giovani qui c'è un pacchetto che sembra contenere un anello e un biglietto vivace di papà Mannering che mi sono preso la libertà di leggere e bruciare il vecchio non è soddisfatto di voi e Kitty chiesi debolmente è anche più irritata del padre a giudicare dalle sue parole dovete esservi lasciato sfuggire un mucchio di strani ricordi prima che vi raggiungessi dice che un uomo che si fosse comportato come voi con Mrs. Westington dovrebbe uccidersi per semplice riguardo verso i propri simili è una piccola virago impulsiva la vostra amica astiene anche che eravate in preda ad un attacco di delirium tremens quando è scoppiata quella lite sulla strada di Jaco e dice che preferirebbe morire piuttosto che rivolgervi ancora alla parola ci metti e mi voltai dall'altra parte ora tocca a voi scegliere amico mio il fidanzamento deve essere rotto e i manning non intendono mostrarsi troppo severi con voi è stato a causa del delirium tremens o di un attacco epilettico mi spiace non potervi offrire di meglio a meno che non preferiate la follia ereditaria basta una parola e io dirò loro che si tratta di epilessia tutta simile e al corrente di quella scenata il miglio del signore coraggio vi do cinque minuti per rifletterci durante quei cinque minuti credo di aver esplorato a fondo i più infimi gironi dell'inferno che all'uomo si è dato di conoscere su questa terra e intanto osservavo me stesso a girarsi esitante negli oscuri labirinti del dubbio della sofferenza e della più completa disperazione mi domandavo come forse stava facendo anche Hetherleg sulla sua sedia quale orrenda alternativa dovessi scegliere di lì a poco udì in me stesso rispondere con una voce che riconoscevo appena sono maledettamente esigenti in fatto di morale da queste parti vada per l'epilessia Hetherleg e aggiungete i miei affettuosi saluti poi i miei due io si unirono e fui soltanto io mezzo matto e posseduto dal demonio a rivoltarmi nel letto ripercorrendo passo passo la storia dell'ultimo mese ma sono a Simla continuavo a ripetere fra me io Jack Pansay sono a Simla e non ci sono fantasmi qui è assurdo da parte di quella donna fingere che ci siano perché Agnes non dovrebbe lasciarmi in pace io non le ho mai fatto niente di male avrebbe potuto benissimo succedere a me invece che a lei solo che io non sarei mai ritornato apposta per ucciderla perché non mi si lascia in pace in pace di godermi la felicità era mezzogiorno quando mi svegliai la prima volta e il sole era basso nel cielo prima che mi riaddormentassi per dormire il sonno del criminale sulla ruota del supplizio troppo esausto per provare ancora dolore il giorno dopo non potei lasciare il letto in mattinata Hederlegg mi disse di aver ricevuto una risposta da mister Mannering e che grazie ai suoi di Hederlegg amichevoli uffici la storia dei miei patimenti aveva fatto il giro di Simla dove ero molto compianto da tutti e questo è anche più di quanto vi meritate conclusi affabilmente benché Dio solo sappia cosa avete dovuto passare comunque non importa siete un fenomeno capriccioso ma vi cureremo lo stesso rifiutai fermamente di essere curato siete già stato anche troppo buono con me vecchio mio dissi e non credo di dovervi disturbare ancora in col mio sapevo che nulla di quanto potesse fare Hederlegg avrebbe alleviato il peso che gravava su di me tale consapevolezza diede origine a un senso di impotente disperata ribellione contro l'assurdità di tutto quanto c'era un'infinità di uomini non certo migliori di me ai quali il castigo era stato almeno riservato per l'altro mondo e io trovavo profondamente crudelmente ingiusto che soltanto a me fosse imposto un destino così orrendo tale stato d'animo cedette a poco a poco il passo ad un altro in cui sembrava che Risho e Dio fossimo le uniche realtà in un mondo di ombre che Kitty fosse uno spettro che Mannering Hederlegg e tutti gli altri uomini e donne che conoscevo fossero spettri e le stesse grandi colline grigie null'altro che vani ombre intesi a tormentarmi per sette giorni estenuanti fui sballottato avanti e indietro da uno stato d'animo all'altro intanto il mio corpo li acquistava a vigore di giorno in giorno finché lo specchio della camera da letto non mi disse che ero tornato alla vita di tutti i giorni ed ero di nuovo una persona come tutte le altre stranamente il mio viso non presentava traccia delle pene sofferte ero pallido certo ma piatto e inespressivo come sempre mi sarei aspettato qualche alterazione permanente come prova tangibile del male che mi stava consumando non scorsi nulla il 15 maggio lasciai la casa di Hederleck alle 11 del mattino e l'istinto dello scapolo mi condusse al club lì scopri che la mia storia nella versione di Hederleck era nota a tutti poiché la gente mi trattava con una gentilezza e una sollecitudine assai goffe ed insolite tuttavia mi resi conto che per il resto dei miei giorni sarei vissuto tra i miei simili senza farne parte e invidiai con grande amarezza i culi che ridevano nella strada feci colazione al club e alle 4 mi aggiravo senza meta per il mal nella vana speranza di incontrare Kitty in prossimità del palco dell'orchestra i livrai bianchi e neri mi si affiancarono e udì l'antica supplica di Mrs. Wessington me l'aspettavo sin quando era uscito e fui sorpreso solo del ritardo il risciò fantasma ed io proseguimmo fianco a fianco in silenzio lungo la strada di Cota Simla nei pressi dei bazar Kitty insieme ad un uomo con lei a cavallo si raggiunse e ci oltrepassò il suo comportamento avrei potuto essere un cane randagio non mi fece nemmeno l'onore di affrettare il passo sebbene il pomeriggio piovoso sarebbe stato un ottimo pretesto così Kitty e il suo compagno e io con la spettrale luce della mia vita proseguimmo lentamente verso Jacco a coppie la strada era corsa da rivoli d'acqua i pini gocciolavano come grondaie sulle rocce sottostanti e l'aria era pregna di piovigine sversante due o tre volte mi sorpresi a dire a me stesso quasi a voce alta sono Jack Pansay in licenza Simla a Simla la solita Simla di tutti i giorni non devo dimenticarlo non devo dimenticarlo poi cercai di ricordare qualcuno dei pettegolezzi che avevo dito al club in prezzo dei cavalli del tal dei tali qualunque cosa per intenderci che avesse attinenza con la vita pratica della comunità angolo indiana che ben conoscevo arrivai persino a ripetere la tavola pitagolica rapidamente tra me per assicurarmi che non stavo uscendo di senno ciò mi diede parecchio conforto e deve anche avermi impedito di udire Mrs. Westington per qualche tempo ancora una volta risalì faticosamente il pendio del convento e imbocai la strada pianeggiante a questo punto Kitty e il suo compagno partirono al piccolo galoppo e io rimasi solo con Mrs. Westington Agnes dissi vuoi abbassare il mantice e dirmi che significa tutto questo il mantice si abbassò senza far rumore ed io mi trovai faccia a faccia con la mia signora morta e sepolta indossava il vestito con cui l'avevo vista viva l'ultima volta teneva lo stesso fazzolettino nella mano destra e lo stesso portabiglietti nella sinistra una donna morta da nove mesi con un portabiglietti dovetti costringermi a ripetere la tavola pietagorica e appoggiare entrambe le mani sul parapetto di pietra della strada per assicurarmi che almeno quello fosse reale Agnes ripetei per pietà dimmi che significa tutto questo Mrs. Westington si sporse in avanti con quel rapido curioso movimento del capo che conoscevo così bene e parlò se la mia storia non avesse già oltrepassato in maniera così pazzesca ogni limite di credibilità sarebbe giunto il momento di scusarmi poiché so che nessuno no neanche Kitty per la quale scrivo come una sorta di giustificazione della mia condotta mi crederà proseguo Mrs. Westington parlò ed io passeggiai con lei dalla strada di Saniauli alla curva sotto la residenza del comandante in capo conversando animatamente come se fossi stato a fianco dei risciò di una qualsiasi donna viva il secondo e più tormentoso dei miei insani stati d'animo si era improvvisamente impadronito di me e come il principe della poesia di Tennyson mi sembrava di aggirarmi in un mondo di spettri dal comandante in capo c'era stato un ricevimento in giardino e noi due ci unimmo alla folla di persone che rientravano osservandole avevo l'impressione che fossero loro le ombre impalpabili e fantastiche ombre che si dividevano per lasciar passare il risciò di Mrs. Wessington cosa ci dicemmo nel corso di quell'assurdo e fatale colloquio non posso anzi non oso riferirlo Hederlec avrebbe commentato con una risatina e con l'osservazione che avevo partorito un'altra chimera gastroottico cerebrale un'esperienza spaventosa eppure in qualche modo indefinibile meravigliosamente cara era mai possibile mi domandavo che in questa vita dovessi corteggiare per la seconda volta la donna che la mia stessa negligenza e crudeltà avevano ucciso sulla strada di casa incontrai Kitty un'ombra tra le ombre se dovessi descrivere tutti gli avvenimenti delle due settimane successive e l'ordine in cui si verificarono la mia storia non avrebbe più fine e la vostra pazienza si esaurirebbe un mattino dopo l'altro o una sera dopo l'altra io e lo spettrale Richaud ci attiravamo per simbla insieme ovunque andassi le quattro livree bianche e nere mi seguivano e mi tenevano compagnia da quando lasciavo l'albergo a quando vi rientravo li trovavo a teatro tra la folla di champanis urlanti fuori della veranda del club dopo una lunga serata trascorsa a giocare a whist al gran ballo per il compleanno della regina dove aspettavano impazienti che riapparissi e in pieno giorno quando mi recavo in visita a qualcuno a parte il fatto che non proiettavo ombra alcuna il richaud era sotto ogni altro aspetto reale come uno fatto di legno e ferro anzi più di una volta ho dovuto trattenermi dall'avvertire qualche amico che passava a galoppo sostenuto di non finirci contro e più di una volta ho passeggiato per il mal conversando amabilmente con Mrs. Washington con indescrivibile stupore dei passanti prima che fosse trascorsa una settimana da quando avevo ricominciato ad uscire venne a sapere che la teoria degli attacchi epilettici era stata messa da parte in favore dell'insania questo tuttavia non cambiò minimamente il mio stile di vita facevo visita agli amici andavo a cavallo e pranzavo fuori con la stessa libertà di sempre mi sentivo attratto dalla compagnia dei miei simili come mai prima di allora smaniavo di trovarmi tra la realtà del smaniavo di trovarmi tra le realtà della vita e al tempo stesso mi sentivo vagamente infelice se restavo separato troppo a lungo dalla mia spettrale compagna sarebbe quasi impossibile descrivere i miei mutevoli stati d'animo del 15 maggio sino ad oggi la presenza del risciò mi riempiva di volta in volta di orrore di cieco terrore di un vago senso di piacere e di completa disperazione non osavo lasciare Simla men che mi rendessi conto che la mia permanenza mi stava uccidendo sapevo inoltre che era mio destino morire lentamente un po' per giorno la mia unica preoccupazione era di scontare la pena in tutta calma alternavo momenti in cui bramavo di vedere Kitty ad altri in cui osservavo il suo spudorato amoreggiare con il mio successore per essere più precisi dovrò dire i miei successori con divertito interesse ormai era uscita dalla mia vita nella stessa misura in cui io ero uscito dalla sua di giorno vagavo in compagnia di Mrs. Washington ed ero quasi felice di notte imploravo il cielo di lasciarmi tornare nel mondo quale ero solito conoscerlo al di sopra di tutti questi stati d'animo mutevoli avvertivo una sensazione di vaga oscura meraviglia per come il mondo visibile e quello invisibile si mescolino in maniera così strana su questa terra da perseguitare una povera anima fino alla tomba 27 agosto Eterleg mi ha assistito con incessante devozione e soltanto ieri mi ha consigliato di inoltrare una domanda di licenza per malattia una domanda per sfuggire alla compagnia di un fantasma una richiesta al governo perché mi consenta gentilmente di sbarazzarmi di cinque fantasmi e di un risciò immaginario con un viaggio in Inghilterra la proposta di Eterleg mi ha fatto scoppiare in una risata quasi isterica ho detto che avrei atteso tranquillamente la fine a Simla e sono certo che la fine non è lontana credetemi io ne temo la venuta e di quanto possano esprimere le parole e la notte mi torturo con mille congetture su come avverrà la mia morte morirò decorosamente nel mio letto come si addice a un gentiluomo inglese oppure durante un'ultima passeggiata lungo il mal l'anima mi sarà strappata per essere posta in eterno accanto a quell'orrendo fantasma ritroverò l'antica devozione perduta nell'altro mondo o incontrerò Agnes per provarne disgusto pur essendo legato al suo fianco per tutta l'eternità ci livreremo sullo spettacolo delle nostre vite fino alla fine dei tempi a mano a mano che il giorno della mia morte si avvicina l'orrore profondo che ogni essere vivente prova per degli spiriti venuti dall'aldilà si fa sempre più intenso è terribile scendere rapidamente tra i morti quando non si è arrivati nemmeno alla metà della vita ma è mille volte più terribile aspettare come me in mezzo a voi chissà quale inimmaginabile orrore abbiate pietà di me almeno per la mia illusione poiché so che non crederete mai a ciò che ho scritto fin qui eppure se mai uomo fu spinto alla morte dai poteri delle tenebre quell'uomo sono io e per giustizia abbiate pietà anche di lei perché se mai donna fu uccisa da un uomo io ho ucciso mister wessington e la parte finale della mia pena mi opprime anche ora grazie grazie grazie